Estate bollente per Rosa Di Grazia che da qualche settimana questa parte è tornata di nuovo in possesso della sua pagina Instagram La ballerina attualmente impegnata nella realizzazione dei progetti di lavoro messi in atto dopo Amicia ma la foto pubblicata alcuni giorni fa ha lasciato i fan senza parole La esperienza fatta nel programma di Amici di Maria De Filippi ha permesso a Rosa Di Grazia di mettersi in gioco nella realizzazione del suo sogno di poter diventare una ballerina fortemente voluta dall'Orella Cuccarini e spesso oggetto di attacchi da parte della professoressa Celentano Mesi dopo la addio alla scuola e la fine della relazione con Daddy, Rosa Di Grazia sembra essere davvero lanciatissima sul fronte carriera sia in campo social che artistico Ma avete notato come cambiata in pochissimo tempo la giovane ballerina, Rosa Di Grazia cosa dopo Amici e Bene sa come abbiamo avuto modo di spiegare all'inizio del nostro articolo Nel mirino dell'attenzione del web troviamo alcuni scatti che Rosa Di Grazia ha condiviso nella sua pagina Instagram e che mostrano come la ballerina sia cambiata nel corso degli ultimi mesi Bella e solare come sempre, è un fascino reso pazzesco anche dalla tintarella sfoggiata al mare e anche nelle foto condivise su Instagram Immagini, queste, che in men che non si dica hanno scatenato il popolo del web e i fan della ballerina che non hanno trattenuto il loro entusiasmo rilasciando cosa vari commenti nella pagina Instagram ufficiale di Rosa Di Grazia Leggi anche trattino maggiore a Leggi anche trattino maggiore all'artista pronta al suo esordio da ballerina professionista? Nel corso delle ultime ore, inoltre, sono diversi i rumors che vogliono Rosa Di Grazia come prossima ballerina professionista nella scuola di Amici al posto di Elena da Mario che a quanto pare sarebbe prossima cosa all'addio definitivo alla scuola che le ha permesso di emergere nel mondo della danza La notizia al momento non trova qualunque conferma ma se cosa fosse si tratterebbe della realizzazione di un nuovo sogno artistico per Rosa Di Grazia In occasione di una passata intervista a solo gossip, infatti, l'artista parlando della scuola di talenti ha dichiarato diretta da Maria De Filippi Amici sempre stato un sogno nel cassetto, sin da piccola Sono nata con la passione per la danza ed è stato un talent che ho seguito sin da piccola da casa e ho sognato sempre di salire su quel palco e portare la la mia passione per quest'arte meravigliosa che è la danza A presto! Grazie a tutti.